Una mostra che da domani è aperta al pubblico, che cosa c'è? C'è la vita professionale di un nostro carissimo concittadino, Tommaso Malfanti, il fotografo di Castelnuovo, sia dal punto di vista dell'ufficialità, perché il Comune di Castelnuovo ha collaborato anni con Tommaso Malfanti, e poi tutto il suo percorso professionale, più di 40 anni di carriera. La carriera di Tommaso Tommi, come lo chiamano tutti i castelnuovesi, ma anche di questo paese, di questo territorio. Infatti si inizia proprio con il primo piano, perché è suddivisa su sei piani la mostra, come storicamente accade qua. Il primo piano poi c'è Castelnuovo, quindi le vedute di Castelnuovo alla paesaggistica per proseguire con le miniere, poi il calcio, lui ha fatto tantissime foto di giocatori di calcio, dei piccoli giocatori di calcio, dei giovani, per proseguire poi con i ritratti, con i cuochi, e poi tutta la parte della sua carriera dedicata ad Eredia, questo scultore importante che l'ha scelto come fotografo ufficiale di tutto il suo lavoro. Per lei è una mostra che ha un valore particolare? Sì, per me questa mostra è l'occasione per ricordare mio padre, a un anno dalla sua scomparsa, è una mostra dove si può ammirare il suo lavoro e mi piace pensarla come un'occasione per un saluto e un abbraccio da parte di tutta la comunità. Che cosa ha rappresentato il suo padre per Castelnuovo? Ha rappresentato un punto fermo, una presenza costante, in grado di cogliere emozioni e momenti fondamentali per Castelnuovo Magra.